La natura mi dà pace, soprattutto i suoi silenzi, non come quello. Ha tossito stanotte. Dovrebbe riguardarsi di più. Chi è? E ogni volta che ci va trova una pace interiore. Si sente più sereno, per lui è come una liberazione. Ehi, ma che... Calmati, che cosa vuoi fare? No! No! Si, proprio una liberazione.